Passava di fronte a casa mia in Corsa Italia una strana compagnia vestita in tuta che spingeva dei bob a cui avevano messo le rotelle. Scoprimo allora e poi anche dopo che erano soprattutto il più famoso Eugenio Monti ma tanti altri personaggi che venivano a allenarsi a Chiavari e grazie agli allenamenti, certamente grazie soprattutto alla loro grande personalità raggiunsero dei risultati fantastici vincendo campionati italiani, europei, mondiali e poi addirittura le olimpiadi. Quattro mesi fa ho cominciato questa ricerca e sono venute fuori delle cose molto interessanti e devo ricordare prima di tutto Don Lelio Podestà che è all'origine di tutto questo. Don Lelio a quei tempi gestiva l'albergo Stella del Mare, la palestra di casa Marchesani e con la sua personalità veramente fantastica invitò qui delle nazionali di vari sport fra cui anche quelli del Bob. Ma quelli del Bob oltre a allenarsi in palestra, non so per merito di chi in effetti, individuarono nel sottopassaggio di Marina Giulia una zona adattissima per allenarsi. Misero le ruotine ai Bob, Bob a 2 e Bob a 4 e cominciarono gli allenamenti lì. Questo li portò ai successi che dicevamo, soprattutto però Monti, la personalità più in vista e anche veramente con uno sguardo fantastico che mi colpisce, mi sembra quasi di averlo conosciuto, io l'ho visto solo passare. Monti non riusciva mai a vincere le olimpiadi, arrivava sempre il secondo. Grenoble, il fatto che poi è andato su tutti i giornali, discesero gli italiani, primo tempo, mancavano più solo gli inglesi, gli inglesi ruppero un pattino e a questo punto probabilmente un grande applauso e si medaglia d'oro, no, Monti smonta il pattino del suo Bob e lo porta agli inglesi, gli inglesi scendono e vincono la medaglia d'oro, grandi polemiche perché il Coni disse ci hai fatto perdere le solvenzioni e lui rispose sulla stampa se gli inglesi hanno vinto non è perché io gli ho dato il mio pattino ma è perché erano più bravi. Ma 4 anni dopo, a 40 anni, riuscì a vincere anche la medaglia d'oro senza più altri avvenimenti, una persona veramente eccezionale. Ho cercato su internet i nomi e ho trovato Mario Armano, Mario Armano di nuovo è una persona fantastica, ancora attiva, mentre purtroppo Monti non c'è più, Mario Armano invece mi ha scritto, mi ha mandato fotografie, aneddoti e una storia veramente bella e quindi ho deciso di farla conoscere. Ma scommetto che molti chiavaresi la ricordano e quelli invece che non la ricordano che possano sapere che anche Chiavari appunto con il suo sottopassaggio è diventato un centro di sport infernali. Oggi è impensabile immaginare degli allenamenti nel sottopasso a Marina Giulia. Ho saputo che a Cortina hanno realizzato una zona di allenamenti fatta proprio nello stesso modo, naturalmente con la tecnologia di oggi.